Un nuovo strumento di controllo ai posti di blocco non è passato inosservato ai tarantini. I carabinieri della compagnia di Taranto hanno infatti messo in atto un vasto servizio di controllo mirato a contrastare il fenomeno delle biciclette pedalate assistita modificate per raggiungere prestazioni pari ad una moto. I militari, con la collaborazione dei tecnici della motorizzazione civile di Bari, grazie ad un apposito macchinario provvisto di rulli, sono in grado adesso di verificare l'effettiva velocità raggiunta dalla bicicletta e a seconda del risponso stabilire se si tratti ancora di una bici o se rientri nella categoria dei motocicli. In questo caso il mezzo è tenuto a rispettare norme del codice della strada, tra cui obbligo dell'assicurazione, revisione, immatricolazione, utilizzo del casco e patente di guida. Per l'uso di questo nuovissimo strumento i carabinieri hanno impiegato sette pattuglie, di cui una su motocicletta, e sono state controllate 20 bici a pedalata assistita, di cui ben 12 sequestrate, con relative sanzioni amministrative a carico dei proprietari, perché equiparate a ciclovotori. In totale sono state combinate 30 sanzioni e una denuncia penale per guida senza patente. Insomma, vita davvero dura per i furbetti.